Schianto mortale in via Vicenza, nella zona del cavalcavia Chiesa Nuova di Padova. Durante la notte, una moto con due giovani a bordo si è scontrata frontalmente con un'utilitaria condotta da un 25enne. Il ragazzo di 24 anni alla guida della moto è morto sul colpo, mentre la ragazza 22enne, che viaggiava sul sellino posteriore, è ricoverata all'ospedale di Padova in gravi condizioni. Anche l'automobilista è rimasto ferito, mentre la dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118. I tre giovani coinvolti sono residenti in provincia di Padova, in particolare il ragazzo che ha perso la vita è di Selvazzano.